In una sensazionale giostra di comicità e colpi di scena, Gotham City si trova ancora una volta ad affrontare le minacce di due mostruosi criminali, il bizzarro e sinistro pinguino, Danny DeVito, e la seducente e misteriosa Catwoman, Michelle Pfeiffer. Ce la farà Batman, Michael Keaton, a combattere due formidabili avversari in una volta sola? Soprattutto quando uno vuole diventare sindaco della città e l'altra si sente romanticamente attratta dall'eroe di Gotham. Come il precedente Batman, vincitore dell'Oscar nel 1989, Batman, il ritorno è diretto dal mago della produzione cinematografica, Tim Burton. E al pari del precedente successo, è un'incredibile avventura che lascia tutti col fiato sospeso.